E' finita questa meravigliosa esperienza con tanti amici, tante persone, 6.000 persone nel Palo 105 hanno condiviso con noi questo messaggio d'amore e di protezione della vita per i bambini. Abbiamo mostrato come tagliare gli alimenti pericolosi, come salvare un lattato, un bambino, si è parlato di dati, si è parlato di tecniche, di linee guida, tutti hanno potuto vedere e a tutti alla fine con salvagente, poster, manuali, attestati, possibilità di scaricare materiale ma soprattutto di dirlo ad altre persone che ci aiuteranno a diffondere questo messaggio. A breve, altri appuntamenti. Grazie.